La Ravenna 2016, fare conti con l'ambiente, si è svolto il lab meeting sulla gestione delle risorse idriche, siamo con Jos Zorzi che ci spiega quali sono i principali temi affrontati. Il mio intervento riguardava l'utilizzo della modellazione idraulica come strumento di supporto alla progettazione e alla gestione dei sistemi idrici di interesse pubblico. La simulazione numerica può riguardare sia gli aspetti legati alle reti in pressione, quindi gli acquedotti, sia i sistemi a pelo libero, quale le fognature, sia ultimamente ci stiamo specializzando anche in simulazioni di processi chimici all'interno dei depuratori. Quindi l'azienda che io rappresento, che è Synergy SRL, si pone quale interlocutore per i gestori del servizio idrico integrato nel supporto di questa attività di modellazione numerica, anche per la formazione interna di personale che deve essere autonomo nella gestione dei modelli che gli vengono creati. Grazie